Grazie a tutti. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano contemporaneo Luigi Nono. Potete facilmente seguire con lo spartito sia le sfumature di intensità che gli sbalzi di altezza. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano. Soltate una pagina tratta dai canti di vita ed amore del compositore italiano.